Le Figaro, 20 febbraio 1909. Primo, noi vogliamo cantare l'amor del pericolo, l'abitudine all'energia e alla temerità. Due, il coraggio, l'audacia, la ribellione saranno elementi essenziali della nostra poesia. Tre, la letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità penosa, l'estasi ed il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salsa mortale, lo schiaffo ed il pugno. Quattro, noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova, la bellezza della velocità. Un'automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall'alito esplosivo. Un'automobile ruggente che sembra correre sulla mitraglia e più bella della vittoria di Samotracia. Cinque, noi vogliamo inneggiare all'uomo che tiene il volante, la cui asta ideale attraversa la terra lanciata a corsa essa pure sul circuito della sua orbita. Sei, bisogna che il poeta si prodighi con ardore, sfarzo e munificenza per aumentare l'entusiastico fervore degli elementi primordiali. Sette, non v'è più bellezza se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo può essere un capolavoro. La poesia deve essere concepita come un violento assalto contro le forze ignote per ridurle a prostrarsi davanti all'uomo. Otto, noi siamo sul promontorio estremo dei secoli. Perché dovremmo guardarci alle spalle se vogliamo sfondare le misteriose porte dell'impossibile? Il tempo e lo spazio morirono ieri. Noi viviamo già nell'assoluto, poiché abbiamo già creata l'eterna velocità onnipresente. Nove, noi vogliamo glorificare la guerra solo ai gene del mondo, il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei liberatori, le belle idee per cui si muore il disprezzo della donna. Dieci, noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie ed ogni specie e combattere contro il moralismo, il femminismo e contro ogni milità opportunistica e utilitaria. Undici, noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa, canteremo le marce multicolori e polifoniche delle rivoluzioni nelle capitali moderne, canteremo il vibrante fervore notturno degli arsenali e dei cantieri incendiati da violente lune elettriche, le stazioni ingorde, divoratrici di serpi che fumano, le officine appese alle nuvole per i contorti fili dei loro fiumi, i ponti simili a ginnasti giganti che fiutano l'orizzonte e le locomotive dall'ampio petto che scalpitano sulle rotaglie con enormi cavalli d'acciaio imbrigliati di tubi e il volo si volante dagli aeroplani la cui elica garrisce il vento come una bandiera e sembra applaudire come una folla entusiasta. È dall'Italia che noi lanciamo per il mondo questo nostro manifesto di violenza travolgente e incendiaria col quale fondiamo oggi il futurismo perché vogliamo liberare questo paese dalla sua fetida cancrena di professori, di archeologi, di ciceroni e d'antiquari, già per troppo tempo l'Italia è stata un mercato di rigattieri, noi vogliamo liberarla dagli innumerevoli musei che la coprono tutta di cimiteri. Filippo Tommaso Marinetti Tornare pacati è il compito che affrontiamo ora con il il nostro ospite e con il professor Ventrone. Scherzi, pensi che torno a pacare. Ormai molto sulla temperatura, la pressione, parecchia adrenalina. Tommaso ci ha aiutato in questa avventura, ha riproposto, Giordano Bruno Guerri ci dice come riesce a cogliere sempre nel segno. Questa volta è andato oltre perché con la sua biografia su Marinetti ha rispiegato tutta la storia del ventesimo secolo, l'ha riletta. L'omaggio gli è venuto l'altra sera quando Oliviero Toscani e Achille Bonitoliva si sono inchinati all'eredità all'ascito del futurismo. Hanno ripreso le sue parole, hanno riparlato di questo movimento nervoso che ha segnato tutti noi e ancora lavora sotto traccia o nelle nostre menti e ha determinato tutte le avanguardie. Su questo scenario si apre la discussione con un autore che ormai scandisce la vicenda culturale nazionale. Da dove viene e che propositi ha il Tommaso Marinetti di Giordano Bruno Guerri. Intanto grazie di essere qui. Sapete come Marinetti riuscì a pubblicare questo manifesto che fa ancora impressione oggi figurarsi novecento anni fa? Lui aveva poco più di trent'anni ed era praticamente sconosciuto in Italia e tanto più in Francia. Aveva provato a pubblicare il manifesto in Italia, l'aveva mandato a tutti i giornali, c'era anche riuscito, uscì sulla gazzetta di Reggio Emilia, su qualche giornale locale, ma naturalmente nessuno è provato in patria, poi l'Italia era un paese culturalmente morto all'inizio del secolo e quindi nessuno ci fece caso. Il genio di Marinetti, che era un genio, prima di tutto della comunicazione, gli fece intuire che doveva uscire su un grande giornale mondiale e da lì diffondersi in tutto il mondo. Sì, ma come fare? Mica era facile, per di più lui l'aveva pubblicare come editoriale, non nelle pagine della cultura. Allora, conosceva uno degli editori del Figaro, che era un egiziano. Marinetti era nato ad Alessandria d'Egitto, ci era vissuto fino a 17 anni e quindi aveva conosciuto molte persone, fra cui questo signore, il quale viveva a Parigi e aveva una figlia di 20 anni, Rose Fatino, una ragazza dagli occhi di liquirizia, dice Marinetti, che era vagamente innamorato di lui, un uomo bellissimo, affascinante, gran parlatore, ricco, elegante, stravagante, seduttore. E Rose Fatino soffriva di nostalgia per l'Egitto. Oggi un'egiziana che arrivasse a Parigi sarebbe pazza di gioia e andrebbe subito a ballare. Allora era un po' più romantico lo spirito e lei rimpiangeva il Nilo, rimpiangeva le palme e il suo generoso padre gli aveva fatto costruire sulla Senna delle serre dove crescevano datteri, palme, eccetera, eccetera. La ragazza, un po' viziata, non era ancora contenta. Voleva che il babbo gli deviasse il corso della Senna, l'allargasse e la rendesse dritta in modo da assomigliare al Nilo. Questo non era possibile. Allora Marinetti, l'uomo che dichiarerà guerra al chiaro di luna, che proporrà di asfaltare i canali di Venezia, che mi sembra anche un'idea brillante, che dichiarò che le gondole sono poltrone a dondolo per cretini. Cosa fa? Disegna una gondola perfetta, assolta una squadra di esperti falignami e vara una gondola sulla Senna, proprio per Ros Fatin.